Ciao Don, il quale parlo anche io di prevenzione, in altra maniera, a tutti quelli che vanno a scuola, rimettiamo in circolo l'educazione, rimettiamo in circolo l'educazione, che è la più bella prevenzione che vogliamo fare per tutti quelli che vanno a scuola, rimettiamo in circolo l'educazione. Ciao Don, è bellissimo questo invito che hai fatto, anche perché insomma previene l'inciviltà all'educazione ed è sempre bene ricordarlo, questo vale a scuola, vale nella vita, vale in famiglia e vale anche nei posti di lavoro.